L'anno scorso in settembre, e lo ricordo bene perché era il giorno del mio compleanno quando l'ho fatto, è il giorno dei miei 70 anni, ho fatto un video su Ezio Bosso. L'ho fatto in un momento anche di commozione perché avevo scoperto da poco questo musicista. Avevo cercato su di lui quello che si poteva trovare, informazioni possibili, ho guardato i suoi video e per lo più i suoi video erano fatti di interviste. E quindi ho cercato di analizzare questo fenomeno come a volte mi capita di fare, perché la curiosità è quella di capire anche il perché certe cose succedono, come avviene, come si pone un personaggio, chi è, come si diventa personaggio. Avevo capito che si trattava di un personaggio e quindi avevo fatto questo video perché era stata una mia scoperta personale, perché evidentemente era conosciuto da molto. Era sull'onda di un'emozione e volevo un po' condividere questa emozione e anche farlo conoscere, perché mi ero accorto, anche poi parlandone a casa, parlandone anche con i miei figli, che in realtà non era conosciuto. E quindi avevo questa, chiamiamola urgenza, sentivo questo bisogno di dire qualcosa anche perché era qualcosa che mi aveva emozionato. E ho usato queste parole, adesso io vi accenno soltanto a qualche parola perché potete vedere il video. Quindi insomma, bellissimo concerto, grande ispirazione, fascino che non puoi non vedere, coinvolgente, entusiasmo, forza vitale, vitalità, nonostante la disgrazia e le difficoltà. Parla, si commuove, manda i bacini. Compia gesti insoliti, gesti che normalmente di espansivi, insomma, che in genere non vedi fare ai musicisti che sono molto formali, imbacchettati, no? Fa vivere la musica con la sua vita, tener duro nonostante tutto. Ho detto che l'avevo visto quando parlava al Consiglio Europeo. Forza anche morale, bellezza della sua musica, dimensione spaziale della sua musica, spiega molto bene, bravo comunicatore. La sua musica è bella, difficile avere un gradimento così generalizzato. Commenti tutti i lusinghieri, conosciuto attraverso Sanremo, persona che ha segnato chi lo ha ascoltato. Dimostra e fa vedere che non c'è bisogno del virtuosismo fino a se stesso. Invito a cercare nella musica la musica. Da dove nasce questo fascino? Il messaggio che dà è positivo. Un esempio di vita. Nella malattia diventa quello che ognuno di noi vorrebbe essere. Mi sono preso nota di molti suoi interventi e su questo video ho cercato di fare anche delle citazioni dei suoi interventi, di cose che ho trovato belle che lui ha detto in varie interviste. Non so quanto la massa lo conosca, mi ha incuriosito e mi ha preso, emana positività, esempio di vitalità. Volevo parlarne perché chi ancora non lo conosce possa avvicinarsi. Uno degli esempi positivi da ascoltare. Tra l'altro citando le sue ultime cose alla fine del video facendo le citazioni di frasi che lui aveva detto mi sono sentito anche un po' commuovere. Come mi capita a volte quando c'è qualcosa di bello che ti tocca, no? Senti che magari ti si sta per rompere la voce, no? A me capita, c'era la vecchiaia. Ma sta di fatto che insomma il motivo per cui avevo fatto questo video era perché questo personaggio, chiamiamolo personaggio, perché non è solo un musicista, era qualcosa di più di un musicista. Era un musicista ma anche un personaggio perché parlava, un musicista che parla della musica ma parla anche di altro, non soltanto della musica. parlava quando era vivo. E quindi insomma avevo fatto questo video sotto questo impulso. Chi vive con me lo sa perché mi aveva sentito come ne avevo parlato e come ne abbiamo parlato. Tra i vari commenti ce n'erano alcuni. Ce n'era uno che per esempio diceva non mi piace questo modo di parlare. Ah, poi avevo detto che la sua musica è minimalista. Insomma, no, era minimalista, l'ha conosciuto come un musicista minimalista. Allora il commento per esempio non mi piace questo modo di parlare di Ezio con una velatura cinica, quasi invidiosa. La sua musica non è minimalista. Non mi piace per nulla questo video. Poi c'è anche un altro, insomma, che diceva che non mi piace per nulla questo video, eccetera, eccetera. Al secondo, taglio corto perché c'è stato uno scambio molto breve, a questo secondo mi diceva non mi piace per nulla questo video, non so qualcos'altro, ma molto svelto. Io ho detto, vabbè, a me non piace il tuo commento perché evidentemente non hai capito quello che volevo dire nel video. E la risposta è stata questa. Se non le piace, che qualcuno non la prova, non metta un video in mondo visione con possibilità di commentare. Ha capito? Buffone. Questa è stata la risposta, ma a me sembrava logico che se uno ha diritto di dire la sua in un commento, io ho anche il diritto e può dire non mi piace ad un video, io posso dire anche non mi piace ad un commento, ma non ho usato la parola buffone. Ma a parte questo, l'altro commento era più interessante perché l'altro commento non mi piace questo modo di parlare di Ezio con una vellatura cinica, quasi invidiosa, come se Ezio fosse suo fratello, non so, suo cusino. Cugino, la sua musica non è minimalista, non mi piace per nulla questo video. Le parole che usate in quel video le potete trovare. Di fronte al fatto che mi dice così seccamente la sua musica non è minimalista, io vado su Wikipedia e cerco i minimalisti, no? E trovo il nome di Ezio Bosso. Ezio Bosso, direttore d'orchestra e compositore di colonne sonore. Wikipedia, musica minimalista. insieme, citato insieme a tanti altri, Jung, Rill, Reich, Glass, John Adams, Neiman, Mertens e tanti altri. Io non capisco perché poi deve essere offensivo. Cioè la musica minimalista è una musica, è una parte della musica importante che, insomma, che è abbastanza il centro dell'attenzione oggi, no? Colonne sonore, sottofondi e tante altre cose. Faccio un copia e incolla di quello che ho trovato su Wikipedia e scrivo, io lo metto davanti per dire che è minimalista, insomma, non c'è bisogno e scrivo per te piccola, presuntuosa, saccente. Perché il tono con cui questa si è presentata non mi piace questo modo di parlare di Ezio con un modo da cinico e quasi invidioso. Vuol dire che non ha capito quello che volevo dire. La sua musica non è minimalista. Questa è un'affermazione che uno almeno, penso, non lo so, ma nel momento in cui fa questa affermazione contro una mia e poi io le do la prova che in realtà la mia era corretta, beh, insomma, penso che sia un atto presuntuoso di uno saccente. Non mi piace per nulla questo video. Fin qua, insomma, ci siamo. Dopodiché viene fuori questo che mi fa capire della distanza che c'è tra tra noi che abbiamo una certa età e un certo mondo giovanile, insomma, così come è abituato, no? Ma volevo fare qualche riflessione su questo, insomma. Quando una persona vale zero le sue offese si dissolvono sul nascere, caro signore, la persona che vale zero sarei io naturalmente, no? Sa perché parla così di Ezio? Perché non sarà mai alla sua altezza piccola, saccente ed una volgarità inaudita. Lei è questo, un uomo che non è riuscito ad avere successo e pensa di poter commentare il grande Ezio. Ho commentato il grande Ezio dicendo tutta la mia stima nei confronti del grande Ezio che io non sono mai riuscito ad avere successo. Non ho fatto il divo, io ho fatto il medico nella mia vita e il mio obiettivo non era avere successo facendo il medico, semmai era quello di curare bene le persone, insomma, mi suggerì che mi si valuterà se ho fatto bene o il medico o se l'ho fatto male, ma non, cioè, non è nello scopo primario di uno che fa il medico avere successo. Lasciamo perdere alcuni medici, insomma, particolari, magari alcuni virologi da adesso, ma insomma, ai tempi in cui ho fatto il medico non era la meta, forse quella di un artista, avere successo, ma non quella di un medico, insomma, io ritengo di aver fatto dignitosamente il mio lavoro. Un uomo che non è riuscito ad avere successo e pensa di poter commentare il grande Ezio, lo spirito con cui l'ho commentato l'ho detto, quando Ezio è arte, poesia, silenzio, rispetto, gentilezza, e qua non discuto, insomma, lei chi è? Nessuno. Per la gente lei è nessuno. È vero, io sono nessuno, ma non è che voglio essere qualcuno. E come tale rimarrà, ecco perché questo velo di invidia per Ezio, disabile come tanto ama sottolineare più volte, sì, Ezio era disabile, perché è una, per me era un motivo di eroismo, perché nonostante la sua disabilità, questo signore è riuscito a tenere duro, a dare un esempio di come si può vivere la propria disabilità in modo produttivo, in modo intenso, in modo grande, non lo so, insomma, è come quando guardiamo un bambino, che suona il pianoforte, non è che tanto ascoltiamo la musica che suona, insomma, no, si colpisce il fatto che sia un bambino che suona il pianoforte, come a volte si vedono dei video di centenari che suonano il pianoforte, ovviamente non suonano come Rubinstein, però cosa si colpisce, cosa rende il fenomeno vivo? Il fatto che uno abbia cent'anni e suona il pianoforte, insomma, è ancora lì sul pianoforte della stazione che lo suona. Bosso aveva una disabilità che non si poteva non vedere, che faceva parte della sua persona, che parlava, che faceva parte della sua, del suo modo di essere e che faceva di lui anche una persona, diciamo, eroica in quello che faceva, perché nonostante quello riusciva a essere quello che, quello che era. E comunque, insomma, lei chi è? Nessuno. Per la gente lei è nessuno, certo. E come tale rimarrà, ecco, perché questo velo di invidia per Ezio, io non avevo invidia per Ezio, tutt'altro, mi aveva commosso, come non ho invidia per i musicisti, insomma, io ho studiato un po' musica, ma non ho mai preteso, sapevo i miei limiti fin da quando avevo vent'anni, insomma, quindi sapevo, ho sempre saputo che non sarei mai diventato un musicista. Ci sono dei musicisti, anche giovani, che mi entusiasmono e con i quali, non so, insomma, che secondo me sono di valore, per i quali, come dire, faccio il tifo, mi identifico con loro, ma li amo, non è che ne provo invidia, perché dovrei provare invidia se qualcuno riesce a fare delle cose che poi mi emozionano, insomma, non è nel mio spirito, la competizione non è con queste persone, non competo assolutamente con le persone che sento brave, che stimo, che sono migliori di me, insomma, ben vengano le persone migliori che ci danno delle cose, perché devo essere invidioso, cosa ho da invidiare se ho tutto da avere da loro, no, come tale rimarrà, ecco perché ha questo velo di invidia, per Ezio, disabile, come tanto ama sottolineare più volte, è lei il disabile comunicativo, Ezio al di sopra di tutto, lei non ci arriverebbe nemmeno in una seconda vita a livello di Ezio, ma non mi si smetto, ma non ho neanche voglia di pretendere, io la mia vita l'ho fatto, l'eredità che lascio, la conosco, io ho quattro figli, la mia eredità sono anche i miei figli, sono, è il lavoro che ho lasciato, è quello che posso aver dato alle persone che ho amato, questa è l'eredità, non mi metto in un campo o non mi ci metto in un campo che non è il mio, non è la ricerca della fama, alla mia età poi, non è che si va alla ricerca della fama, si cerca di elaborare un po' alla volta quello che inevitabilmente verrà tra poco, insomma, no, o tra un po' di tempo, non si sa, se è nella fase del declino, no, nella fase della crescita, insomma, e si ama invece vedere, crescere, venire avanti, mi piace per esempio vedere o guardare i giovani pianisti, quelli emergenti, insomma, no, capire anche la fatica che fanno, quello che, quello che deve costare loro anche raggiungere quello che stanno cercando di raggiungere, a volte mi chiedo se ne vale la pena, insomma, se quello che sacrificano vale, se troveranno quello che si aspettano di trovare, però, insomma, tanto di cappello, no, Ezio è al di sopra di tutto, e lei non ci arriverebbe nemmeno una seconda vita a livello di Ezio, che non offendeva mai, soprattutto le donne, la lascio al suo angolo di nulla, a commentare un grande come Ezio senza esserne all'altezza su qualsiasi fronte, poi se la prende, perché l'ho dato della presuntuosa e della saccente, presuntuosa e saccente, questo sì, glielo ho dato, insomma, su questo non c'è dubbio, ma, lasciamo perdere Ezio, insomma, io lo chiamerai Bosso, insomma, Ezio la guarda, ecco, poi c'è un qualcosa che mi fa pensare che in questo atteggiamento giovanile, perché penso sia una ragazza giovane, insomma, no, una ragazzina, ho visto un suo video, quindi ho visto che, insomma, probabilmente non ha vent'anni, ma che ci sia un'idealizzazione, insomma, no, c'è una divinizzazione della persona, no, di queste cose qua, per cui Ezio è come una divinità intoccabile, insomma, è un idolo, intangibile, insomma, no, nel momento in cui ha quel piedistallo, insomma, guai a chi tocca l'icona, no, infatti questa icona, Ezio la guarda dal cielo e le ride in faccia come amava fare con persone come lei, mi riderà in faccia perché ho detto quel che ho detto, ma voi potete verificare quel che ho detto, ridere, ecco la sua forma più alta di gentilezza anche davanti a persone imbarazzanti come lei, che può farmi grande intenditore elencandomi duecento nomi di compositori, non li ho elencati, e tanto altro ancora, lei cosa fa? Legge poesie, wow, beh, insomma, io le leggo male le poesie, per carità, non sono un fine dicitore, però qualcuno che legge bene le poesie c'è e garantisco che, diciamo, forse persone come Gassman, come Foix, come Carmelo Ben, insomma, anche dal punto di vista intellettuale, saranno persone che saranno ricordate, che hanno dato qualcosa, cioè che richiede uno spessore artistico, umano, anche per interpretare bene delle poesie, ecco, non è così da schifarsi leggere poesie, ma a parte il fatto che non leggo solo poesie, poi l'ho sempre detto, lo faccio per hobby, insomma, lo faccio per passare il tempo, per dare un senso anche al mio tempo, per non buttarlo via, per lasciare una trazza, ma non è che la trazza che devo lasciare sia qualcosa che dovrà essere ricordato in eterno, lo faccio, come si fanno delle cose, e poi mi dà soddisfazione se poi questa qualcosa, qualcuno mi dice che è anche utile, non mi interessa che dica che sia particolarmente bello, ma che magari gli è servito, gli ha dato un'emozione, gli ha fatto scoprire qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto, che altrimenti non avrebbe scoperto. Legge poesia, va, lasciamo perdere, sempre ancora toccata dal saccente presuntuosa, a questo punto insomma si deve vendicare, no, lei è un uomo banale, che si veste da super sapiente, non si sa di cosa, mi vesto da super sapiente, no, vabbè, lasciamo perdere, non arriverà mai a livello di Ezio, se lo ricordi, ma io non vivo per arrivare a livello di Ezio, faccio delle cose, in questo momento, delle cose che penso anche di aver imparato un po' a fare, ma partendo da nulla, quindi non è mio proposito arrivare a livello di Ezio, non hai capito niente di me signorina un po' s'accentina, sì, insomma, no, non hai capito niente, ma non hai capito niente neanche, non soltanto di me, ma neanche della nostra situazione di persone anziane, non abbiamo bisogno di arrivare chissà dove, perché ormai quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, a volte soffriamo per quelli che invece devono fare o devono cercare di raggiungere un loro posto nella vita, penso anche ai miei figli, insomma, no, e lo fanno con difficoltà, insomma, no, perché dobbiamo competere, non arriverà mai a livello di Ezio, no, butto giù le armi in partenza, non è il mio obiettivo, se lo ricordi, mai, sì, ma lo sa già anche lei da solo, non c'è bisogno che glielo ricordi io, sì, ma non è il mio obiettivo, che non tento neanche, che non è questo che voglio dalla vita, no, allora, ho cercato il suo nome e cognome su internet, sconosciuto, beh, non è vero, l'hai cercato male, fanciulla, perché, proprio sconosciuto, no, insomma, nel senso che se tu guardi, se tu digiti il mio nome e cognome, si aprono più o meno dieci pagine in cui sono citato, insomma, poi sarò citato a sproposito, male, farò delle cazzate, ma, se digiti il mio nome e cognome, se lo digiti bene, insomma, si aprono dieci pagine che contengono il mio nome e il cognome, su internet, Wikipedia non sa neppure che esiste, no, non è vero, non è vero, sa che esisto, perché qualcuno aveva citato il mio nome su Wikipedia, e poi è stato aperto un conflitto e si sono chiesti se c'erano i requisiti per restare su Wikipedia o no, allora è stato tolto e è stato rimesso in discussione, però sa che esisto, ma non è neanche il mio obiettivo essere su Wikipedia, anche perché quando io lavoravo e quando eventualmente potrei aver fatto qualcosa nel mio lavoro, cioè nelle cose serie che posso aver fatto, a quei tempi, diciamo così, non esisteva ancora Wikipedia e quindi se tu vai a vedere Fanciulla, prima del 2000 quelli che hanno fatto delle cose, insomma, se tu cerchi anche i lavori, i titoli, le cose così, che sono, diciamo, che appartengono a un'epoca pre-internet, non risultano, non sono state fatte, è molto difficile che compaiono, insomma, che compaiono su Wikipedia e Internet e poi tiene conto invece di tutto quello che è successo dopo, insomma, che è stato, che è entrato dopo nel giro, ma non prima. Wikipedia non sa neppure che esiste, ma insomma, allora, sì, ma comunque io non ho nessun titolo per entrare su Wikipedia, perché quello che faccio non è una cosa artistica che faccio, che si, in cui uno va sui teatri, in cui uno si confronta con un pubblico, non è così, io semplicemente leggo dei libri e cerco di offrirli a chi non ha vista, non ha tempo per leggere, di riempire degli spazi e delle persone che ne hanno bisogno. È tanto vero che ho cominciato a fare questa cosa quando ancora pochi lo facevano e poi invece si è visto che questa cosa in qualche modo funziona ma ci si sono messe dentro anche diciamo grandi piattaforme, no? Cioè è stato visto anche un business in questa cosa, ma io l'ho cominciato prima che fosse un business, l'ho cominciato proprio per una, semplicemente per un per un hobby, chiamiamolo un hobby, veramente a livello di hobby insomma. In quale veste commenta Ezio? Insiste, in quella che ho detto prima, perché ero commosso rispetto a una persona che mi sembrava importante dare un piccolo contributo, nel mio piccolo a farla conoscere e a valorizzarla, non lo so, a parte che non aveva bisogno di essere valorizzato da me, però insomma avremo lo spazio, il diritto, insomma neanche Berlusconi aveva bisogno di essere commentato da tante altre persone, da tanti giornalisti che comunque lo commentavano lo stesso, no? è santo cielo, un anziano sconosciuto che crede di avere talento e di poter commentare con tono cinico Ezio, ragazza mia, Ezio, il tono con cui l'ho commentato è visibile a tutti, dove sia il cinismo non lo so, le parole che ho usato le ho trascritte, le ho dette prima e le ho trascritte dal video, se non pensate che non sia vero il video è disponibile, meglio assassente presuntuosa che cinico narcisista che si permette di ripetere disabile ma insomma ragazza mia io ho fatto il neurologo nella mia vita sono abituato a vedere le persone con le loro disabilità fisiche sono il mio mestiere per una deformazione personale quando io vedo una persona che cammina male cerco di capire cosa può essere successo ma perché è entrato in un meccanismo logico per cui noi quando facevamo ambulatorio insomma già quando si apriva la porta ed entrava un paziente insomma se ci offriva degli elementi per dire ma questo potrebbe avere questo già ci pensavamo lo osservavo osservavamo come guardava la fissità dello sguardo come si pronunciava la parola come si muoveva ma perché perché l'obiettivo primo era comunque di arrivare a una diagnosi sia sbagliato sia giusto sbagliato etichettare le persone fare una diagnosi ma questa era questa era la premessa per poi fare la terapia giusta insomma no e quindi la premessa per fare il nostro mestiere per me essere disabile non è un titolo di demerito non è un fatto di dire è capire che questa persona può avere dei limiti cercare di valutare i limiti che uno ha dopodiché considerare anzi positivamente se uno nonostante certi limiti obiettivi riesce a fare certe cose vuol dire che ha una una carica umana un'energia uno spirito vitale insomma che ha una volontà che ne aumenta il merito non che lo diminuisce meglio saccente presuntuosa che cinico narcisista che si permette di ripetere e di commentare la carriera di un grande che nemmeno in cento vite raggiungerebbe le parole che ho usato per commentare la sua carriera le ho usate e poi ho citato quello che lui ha detto ho citato le sue parole e ho citato le sue parole anche commuovendomi tra l'altro non si capisce se guardi bene quel video capisci che alla fine mi commuovo un pochino no? saluti ecco allora per me questo è un po' perché ne ho parlato insomma no? perché perché c'è in questo la mancata comprensione insomma l'incapacità di leggere nello spirito del testo no? incapacità di comprensione del testo ecco insomma il mio video era qualcosa che forse doveva essere compreso ritengo che tu che mi dai del cinico narcisista perché mi sono permesso di dire quelle parole che ho detto ad Ezio Bosso non hai capito cosa ho voluto dire e lo spirito con il quale ho fatto quel video poi che quel video ti piace o no per altri motivi estetici eccetera ma se sono le parole che ti disturbano allora lì insomma devi essere in grado di leggere il testo soprattutto devi anche informarti cos'è la musica minimalista insomma e se la musica che hai sentito suonare magari quella che ti piace non è non appartiene a un genere che si dice minimalista dopodiché non c'è nessuna invidia da parte mia ma proprio perché è strutturale alla mia età non essere invidiosi perché non sappiamo alla mia età di non avere armi per competere possiamo soltanto cercare di fare nel modo meno peggio possibile qualcosa che facciamo ma che facciamo prima di tutto per noi stessi per avere gli strumenti per sopravvivere insomma no se il tuo vecchio se il tuo vecchio in qualche modo ti commuove tanto e ti commuove tanto come persona insomma no ti commuove tanto come mettiti anche nei panni di altre persone che fanno quello che fanno e che cercano di trovare un'energia per fare delle cose che magari richiedono anche questa energia e che anche loro stanno perdendo un po' alla volta data l'età alla loro energia e lo fanno in maniera non competitiva senza avere gli applausi senza avere il successo senza avere il denaro senza avere le persone entusiaste che che gli applaude dentro il teatro pieno e tutte queste cose qua no mettiti nei panni di coloro che lavorano nel silenzio che fanno le loro cose producono queste cose le mettono in pubblico con la libertà gratuitamente con la libertà che se queste cose piacciono piacciono e se no con la libertà anche di commentarle come le commenti tu di dire non mi piace eccetera eccetera e anzi poi trovarle anche ciniche e invidiose cioè di trovarne dei difetti mettiti nei panni delle persone e poi leggi impara a leggere i testi impara a leggere all'interno delle parole e non interpretare secondo un pregiudizio tuo ma io credo che il tuo pregiudizio nasca dal fatto che tu hai idealizzato un qualcosa e io separerei anche in figura di personaggi come Ezio Bosso separerei il discorso del musicista dal persona dal discorso della persona e della persona anche che ha che ha avuto una disabilità insomma tanto è vero che questa disabilità lo ha portato a morire giovane e quindi dobbiamo tenere conto di questo cioè non è un accidente è stata poi la causa della sua morte insomma è stato il motivo che lo ha fatto resistere insomma per cui poi lo abbiamo valorizzato poco da fare insomma cioè quando pensiamo un personaggio dobbiamo mettere insieme tutto no se pensiamo alla musica pura allora dobbiamo pensare non so a un pianista no dobbiamo pensare a Benedetti Michelangeli no Michelangeli era la figura del musicista puro Michelangeli lo sentivi raramente puro nel senso dello strumentista insomma del pianista del virtuoso musicista musicista e basta no perché Michelangeli parlava attraverso la musica che faceva e basta non parlava della musica faceva la musica e quando ho fatto un video su Michelangeli nessuno mi ha criticato come tu critichi mi sono permesso di parlare anche di Michelangeli pure molti si sono riconosciuti in quello che ho detto su Michelangeli no perché Michelangeli era un musicista puro grandissimo musicista e e basta Bosso era un musicista ma era anche un personaggio quindi era più cose insieme e forse le dobbiamo separare no l'amore che probabilmente possiamo provare possiamo aver provato per lui finché era vivo e magari continuare a provare anche da morto chi lo sa insomma no è un qualcosa che unisce le cose cioè non possiamo pensare al musicista senza pensare anche al personaggio a quello che parla di cosa la musica è per lui a quello che ci dice come come resiste come vive quali sono i suoi rapporti con i suoi musicisti che ci che ci dice tante cose insomma che viene intervistato spesso perché piace al pubblico anche no perché è in sintonia col pubblico Michelangeli no Michelangeli può permettersi anche di essere antipatico no per molti lo era insomma no era anche forse un po' presuntuoso no nel senso che si poneva in maniera aveva un carattere difficile Michelangeli però insomma nessuno cioè non è che lo si deve che si critica il carattere di Michelangeli Michelangeli si guarda la musica insomma no e lui era un certo modo di fare la musica questo bosso no era un'altra cosa era un'altra cosa era un qualcosa di più di un semplice musicista però in Ezio Bosso non non si può guardare cioè se non si sente suonare il pianoforte come può succedere di sentire suonare il pianoforte non so come a me che è capitato sentirlo suonare a Sanremo non si guarda solo come suona il pianoforte si guarda l'insieme di un'immagine come lui la postura che ha il pianoforte il si vede si guarda tutto insomma no cioè in questo senso è anche diventato secondo me un personaggio forse bisogna riflettere su queste cose no cioè i musicisti sono poi uomini non sono delle divinità no è chiaro che chi li guarda li guarda ma non solo i musicisti ma tutti ma anche gli artisti insomma no cioè si guarda e ognuno ha il diritto democraticamente di dire la sua su su qualsiasi artista su qualsiasi musicista su qualsiasi pittore su qualsiasi poeta perché non dobbiamo dire la nostra anche se non siamo niente come sono io però c'è anche c'è anche un limite no cioè che se tu senti dire il primo approccio che tu hai con una persona e qui faccio un altro nome per esempio mi sento di farlo no come Ramin Barani per esempio no Ramin Barani io lo sentivo ne sentivo parlare lo presentavano cioè ne facevano la promozione dopo prima pagina in Rai 3 insomma no ancora molti anni fa poi sento parlare come il più grande interprete al mondo di Bach no allora quando tu senti parlare di un personaggio di un musicista come il più grande interprete del mondo di Bach da lui ti aspetti determinate prestazioni insomma e Ramin Barani non non mi interessa se sia ascolto come suona no dopodiché però ci sono e se vuoi guardi un paio di video che lui ha fatto da Gad Lerner in cui ha toppato completamente dei pezzi abbastanza semplici che si suonano al quintanno insomma per pianoforte no e tutti insegnanti di conservatorio eccetera insomma no se la ridono insomma no perché non è che è possibile che il più grande interprete di Bach al mondo poi quando è davanti a una prestazione davanti a un pubblico abbia quella resa dal più grande interprete del mondo ci si aspetta una grande interpretazione c'è poco da fare insomma se no sei anche responsabile della fama che ti sei fatto no o che hai lasciato che si faccia di te nei miei confronti non ho mai dato nessun motivo per cui si pensa si pensi di me che sono il più grande lettore di poesia o il più grande lettore di romanzi del mondo per carità ho sempre detto che sono un dilettante e su questo mi batto perché si continua a pensare questo che ho tantissimi limiti poi ognuno ripensa e la pensa come vuoi sono contento se la mia voce quello che passa di quello che dico a un certo punto passa e qualcuno ne ha dei vantaggi poi ho sempre detto che loro a cui non piace quello che faccio non sono costretti ad ascoltarmi e anche questo quando ho sentito parlare di Alzio Bosso ne ho sentito parlare come uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo e non lo conoscevo e da qui è nato anche un mio problema perché se tu la prima informazione che tu hai di un personaggio è che è il più grande direttore d'orchestra del mondo e insomma direttori come Berstan Karajan Furcht-Wengler Bruno Walter insomma voglio dire ne sono passati tanti allora insomma ti vai a scavare in quel personaggio vai a capire cerchi di capire se sei una persona che cerca di capire insomma a cui interessa anche capire perché cioè cosa lo rende quello che si dice che sia no e dopo di che se lo verifichi tanto meglio no a volte si parte anche con un pregiudizio negativo ma come cerco di dire anche nel video se tu parti anche da un pregiudizio negativo e poi ti rendi conto che c'è del valore dello spessore fai te ne rendi conto lo riconosci insomma no riconosci che magari avevi un pregiudizio negativo e poi valorizzi quello che invece hai scoperto verifichi che era proprio così verifichi che ci sono dei valori io non so se sia il più grande o se sia stato uno dei più grandi musicisti o direttori d'orchestra del mondo non lo so ce ne sono tanti ma non neanche tu non sei in grado di saperlo e poi a volte fare anche delle scale di valori in questo senso è fuorviante c'è tanti modi ci sono tanti modi di essere bravi di valere nel mondo sicuramente come dico nel video è stato un grande personaggio è stato un grande personaggio che tra l'altro per vari motivi ha saputo attirare l'attenzione su di sé e siccome l'informazione la televisione eccetera insomma sono ghiotti di personaggi che poi attirano il pubblico soprattutto un pubblico giovane e lui lo era insomma lo era anche per l'originalità di quello che diceva quindi insomma è stato un personaggio che è stato come dico nel video anche usato ma usato in senso positivo perché insomma ben venga che la televisione scopra delle grandi persone che abbiano dei grandi valori da trasmettere e che li possa far vedere quindi diciamo invece che che spazzatura possa presentarsi interviste che si guardano con commozione e con piacere un saluto grazie a tutti